Tento! Tento! Non c'è nulla! Noi sono! Non mai c'è nulla! Sto scherzando ragazzi io so che è dura Però i pesci... Un'ora di fuoco Un massacro Qua sono molto ero Altro che elba Siamo a Livorno, Saragonero, all'aspetto, bellissimo, si è venuto il video da dei caccibaffi. Sì, bene. Forse, mi sembra che lo conoscete tutti. Mare meraviglioso, se non c'è una bollettina, poi dopo vi andate a calare. Tutti su pianoni. Ciao. E non dovete mai mollare.